i fatti dell'ane buongiorno 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 siamo a casa stiamo direttamente casa stamattina homemade 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 si non era facile il risale non era facile giocare un tempo con un campo che era pesante ed era pesantino discretamente pesante sapevi che loro avrebbero perso tempo anche nel respirare non si può negare l'avremmo fatto anche noi va bene però 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 alla fine la raddrizziamo e quasi quasi gliela gliela rubiamo perché sarebbe stato un bel una bella fregatura si devo essere onesto ieri dopo i primi 5 10 minuti con questi quattro abbastanza fermi davanti e i lanci lunghi da dietro ho pensato che vecchi stesse sbagliando l'oppa è lunga e pedaare l'ho pensato perché sembravano riuscissimo a tenere su una palla ne franco nei pellegrini riuscivano o sono riusciti a vincere pochi duelli con i loro marcatori e quindi non riuscivamo a salire prendere terreno in modo efficace col senno di poi invece devo dare ragione a ciccio vecchi perché probabilmente era l'unica soluzione con un campo così pesante poco tempo sarebbe stato difficile manovrare da dietro e arrivare con gli scambi lì in zona pericolosa ha preferito questo arrembaggio il nostro ammiraglio vecchi ha preferito ti piace ammiraglio vecchi ti dava ammiraglio ammiraglio ciuffo biondo anche se potrebbe dire ok calcio fonda bionda l'onda bionda l'onda bionda ha preferito questa tattica che alla fine poi una tattica un po della confusione del caos la tecnica del caos che ha dato i suoi frutti infatti su un'azione però non proprio nitida è venuto fuori questo gol di pippo costa migliore in campo con deviazione si già da un po insomma che sta facendo prestazioni di quantità e ovviamente abbinate le sue qualità quindi riporta sul 1 a 1 dopo una partita che era molto complicata loro stavano ripartendo anche bene l'abbiamo anche rischiata perché ciccio con fente turqua con fente l'ha salvata anche si loro ripartivano bene un elemento forte alto toci bravo e così si riporta sull'uno a uno grande entusiasmo un bel abbraccio erano carichi e poi peccato pacca avion che non sono avuto dentro onestamente se la buttava dentro veramente era non dico rubata però forse era risultato un po bugiardo un po corsaro un ammiraglio vecchi l'ammiraglio vecchi corsaro insomma la lungimiranza del caos ha portato bene perché adesso anche il gol delle costa bisogna tirare per segnare bisogna tirare però una deviazione una chiara deviazione di costato accostato al procesto due punti non siamo ancora la miglior terza l'obiettivo è quello ci sono dei dream team come la carrarese che ci sono ancora davanti però mancano ancora tre partite e comunque si prendiamo questi due punti dalla triestina siamo a otto da la seconda non sta neanche a dirlo pa scherzo perché la gente se non possiamo prendere il padova non possiamo non possiamo non possiamo ma tutto ancora aperto per la questione miglior miglior terza mancano sempre tre partite come come che altra volta come se stesso se stessa roba questa roba mantova trento alessandria sono ancora a memoria di tutte tutte perfette pensi sia memorato no no si è memorato sì 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 no no ti sia onesto sì sì che ho dritto del gruppo di sì che ho dritto del gruppo sì non sarà affatto facile perché oppure che la la sbornia del nel vero senso non so non so non so se già come si ha festeggiato tanto si ha festeggiato tanto lo ha fatto giustamente bisogna essere giusti proprio che la sbornia delle festeggiamenti sarà passata per sabato e dunque gioca sabato sarà in campo capitano anche calma jack e sarà veramente dura perché vorranno anche festeggiare con una vittoria ma è necessario vincere comunque tuttavia tutto a posto siamo a casa adesso bemo un caffettino ma guarda lavare la macchina ma dai davvero anche ti fra due giorni di nuovo parigi dakar piove piove dakar piove dakar bene signori come sempre forza l'ane